Montalbini, il tema della sicurezza rimane al centro dell'attenzione sia della campagna elettorale ma anche della vita quotidiana. Intanto, secondo lei, qual è la situazione nel nostro territorio e anche qual è la percezione della gente? Guardi, il problema della sicurezza è quello che noi sentiamo più di tutti girando per le strade di Fano. È ovvio che se noi compariamo Fano con grandi metropoli come Roma, come Napoli, come Milano, noi rimaniamo un'isola felice. Però bisogna anche registrare che nel corso degli ultimi anni il problema sicurezza è diventato molto sentito a Fano. Fano oramai, il centro storico, è terreno di scontro tra bande, è terreno di spaccio, è terreno di lotte per il controllo del territorio e la percezione delle persone è che Fano non c'è più un luogo sicuro. Avere figli come me, minorenni, e lasciarli girare tranquillamente per Fano è diventato un problema. Le famiglie ci raccontano che hanno paura la sera a lasciare circolare i propri figli per Fano. Ora, la situazione non è drastica, però quello che dobbiamo registrare è che sta piano piano degenerando. Vediamo che gli episodi aumentano e non è semplicemente una percezione, ci sono dei fatti. Nonostante il grande lavoro che stanno facendo le forze dell'ordine e anche la polizia municipale, anche con le ultime operazioni volute dal governo, ricordiamo che c'è grande attenzione da parte del governo Meloni sulla sicurezza, quindi abbiamo visto dei cani antidroga, abbiamo visto soprattutto in centro storico delle grandi operazioni delle forze dell'ordine, anche grazie al coordinamento del prefetto, segno che, un po' come voleva forse raccontarci il centro-sinistra, Fano non è più questa isola così felice, ma la situazione sta degradando. Noi dobbiamo intervenire in maniera decisa e porre degli argini, perché poi sappiamo che se si lasciano queste sacche di delinquenza, piano piano ne arriveranno delle altre. Nel dettaglio, secondo lei, quali potrebbero essere le soluzioni? Allora, sulla parte del controllo sicuramente le telecamere. Abbiamo visto che l'amministrazione si è vantata di aver installato tantissime telecamere, sono arrivate tardi, non sembra che tutte siano collegate, quindi non basta una dichiarazione, occorre installare le telecamere, metterle in rete e iniziare ad analizzare i dati. Occorre presidiare i territori, faccio l'esempio del Pincio, dove sono stati spesi centinaia di migliaia di euro, ma poi se non ci si mette un bar, un'attività, un'associazione, diventa terra di nessuno. Sappiamo che c'è una grandissima attività di spaccio e anche di consumo di stupefacenti, quindi è una contraddizione, qualifichiamo una parte del centro storico e poi la lasciamo in mano alla criminalità, questo non va bene. Sicuramente il confronto con le associazioni di quartiere, che devono ritornare ad essere prioritarie nel dialogo con la città, non solo per la sicurezza, ma per tutto quello che riguarda l'attività del quartiere stesso, e secondo me vale la pena di pensare molto attentamente al vigile di quartiere, perché il vigile di quartiere è una soluzione che comunque parla con i commercianti, parla con le famiglie, sente quello che capita nel quartiere, movimenti strani, gente strana, ed è un grosso ausilio poi per il lavoro dell'investigativo, delle forze dell'ordine. Sappiamo anche di comunità dove vengono inseriti profughi e immigrati, che poi all'improvviso raggiunta la maggiorità vengono lasciati nel territorio, e se non hanno lavoro, poi verosimilmente potrebbero trovarsi a delinquere. Quindi anche questo passaggio tra queste comunità di accoglienza e il dopo è molto importante, perché se non si crea un volano, se non si crea una sorta di relazione tra chi accoglie e chi poi deve integrare, rischiamo di trovarci veramente in una situazione fuori controllo. E questa è la percezione che stanno avendo molto i fanesi, di una situazione che piano piano sta andando fuori controllo.